Presso il comune di Roccadaspide è stata stipulata la convenzione tra l'Associazione per lo sviluppo delle valli del Cilento Interno, soggetto istituzionale intercomunale per la strategia delle aree interne del Cilento Interno, e la società sviluppo Campania S.P.A. in relazione all'assistenza tecnica per l'elaborazione progettuale della strategia d'area. La convenzione è stata firmata da Girona Mauricchio, vice sindaco di Roccadaspide e presidente dell'associazione, e da Umberto Minopoli, presidente della società sviluppo Campania S.P.A., alla presenza tra gli altri del sindaco di Roccadaspide e Gabriele Iuliano, e dal primo cittadino di bello sguardo, Geppino Parente, con la firma della convenzione che avrà durata di un anno. Il presidente Auricchio ha confermato una volontà comune a tutti i sindaci dei 29 comuni aderenti all'associazione, che nelle scorse settimane hanno approvato in consiglio comunale lo schema di convenzione. In questo modo l'associazione ha deciso di dare mandato alla società di svolgere le attività previste ai fini della definizione della progettazione esecutiva della strategia d'area e della successiva attuazione, coordinandosi con il Comitato Tecnico dell'Associazione Valli del Cilento Interno. Sarà compito della società quindi realizzare per conto dei 29 comuni della Valle del Calore, Alento e Monte Alburni, un progetto in grado di rappresentare in maniera unitaria l'area nei confronti della regione e del Comitato Nazionale per le aree interne, promuovendo una strategia d'aria in diversi ambiti, istruzione, sanità, trasporti, infrastrutture digitali, ciclo integrato dei rifiuti.